Siamo qua, siamo qua. La mamma e la nonna qui vicino a te. Ti stiamo guardando anche se non ti vediamo in questo momento. E te ne hai cambiato ma sai che ne hai cambiato proprio niente. Ma non solo ne hai cambiato niente come vederti perché sei la bella ragazza che sai ma perché la bella ragazza che sei. Noi sappiamo chi sei fino in fondo. E ti siamo vicine ma ti siamo proprio talmente vicine che se tu allunghi la mano ci tocchi. Ti vogliamo un bene infinito e sono sicura che ce la vuoi altrettanto tu. E andremo avanti insieme a qualsiasi cosa succeda. La tua super nonna bellissima. Un bacio a nonna Norma. No, 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 no. Grazie Alfonso perché so anche quanto sia stato difficile fare questo momento. E invece guarda l'ha fatto volentierissimo perché ti segue tutti i giorni nonna Norma. Ciao nonna, ci voglio bene, ci vediamo a casa. È una tua grandissima fan. è una tua grandissima fan. È una tua grandissima. È una tua grandissima di